Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle, io sono Carlotta, oggi è la mia prima video recensione e voglio parlarvi di LG K8 2017, però prima di guardarlo da vicino guardiamo le specifiche tecniche. LG K8 2017 è la versione rinnovata del K8 uscito lo scorso anno, caratterizzato da una scocca in plastica e da una cover dotata di una texture particolare che ne migliora il grip. Il display è un IPS LCD da 5 pollici protetto dal Gorilla Glass 3, mentre sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 425, la GPU Adreno 308 e 1,5 GB di RAM. La memoria è da 16 GB, espandibile tramite microSD, mentre la batteria è da 2.500 mAh. La connettività è affidata al Wi-Fi, sfortunatamente non di ultima generazione, al Bluetooth 4.2, all'NFC e al connettore micro USB, a cui si affianca il supporto alle reti 4G LTE. La fotocamera posteriore è da 13 MP con flash LED e autofocus, mentre quella anteriore è da 5 MP. Il sistema operativo, infine, è Android 7.0 con interfaccia LG UX 5.0. LG K8 è dotato di un design, come potete vedere, estremamente minimale e nulla di innovativo, però comunque fa la sua discreta figura. Nonostante sia dotato di dei materiali piuttosto plasticosi, però in primo l'occhio non sembrano, ma è tutto estremamente giustificato dal prezzo. Qui abbiamo i tasti di volume e il tasto d'accensione qua dietro e non abbiamo un sensore per le impronte digitali, quindi potremo spegnere e accendere e bloccare il telefono tramite questo tasto. La batteria è rimovibile. Che un po' ci fa tornare indietro nel passato? È una cosa che particolarmente a me è piaciuta, semplicemente perché possiamo portarci in giro due batterie, quindi quando una vedremo che è scarica, potremo con facilità togliere la back cover e inserire la nuova batteria. E sempre qua dietro possiamo comunque inserire la sim e la scheda OSD. Il display è un IPS da 5 pollici con risoluzione HD. L'unico grande pecca di questo display è che sotto al sole non si comporta proprio bene, infatti sotto la luce, forte luce, avrete delle forti difficoltà a riuscire a vedere la home e le varie applicazioni, anche perché, come potrete vedere, la luminosità non è proprio il massimo e quindi questo non aiuta di certo. Per quanto riguarda invece le performance, la batteria dura in circa un'intera giornata, anche sotto stress, il che questo è assolutamente ottimo. È pensato inoltre per svolgere le funzioni base, quindi se volete uno smartphone che ha le funzioni base di qualsiasi smartphone, questo è esattamente l'ideale. La ricezione è ottima, invece per quanto riguarda l'audio è nitido ma è basso e gli speaker sono situati qua dietro, il che non aiuta molto. Quindi per sentire l'audio forte dovreste comunque metterlo così, a pancia in giù. Ascoltiamo il nostro tanto caro amato Ed Sheeran. Come potete vedere dall'immagine le foto ad esempio a paesaggi non sono male, quindi le foto fatte da quella fotocamera posteriore che è da 13 megapixel. Invece non sono esattamente il massimo le foto fatte dalla fotocamera anteriore, che è di 5 megapixel. Il software è un Android 7.0 con l'interfaccia tipica di LG, che non è particolarmente invasiva come potete vedere, che non cambia molto rispetto alla versione base di Android. Il telefono nonostante la sua fascia di prezzo medio-bassa, direi che è un eccellente telefono, un ottimo telefono. È fatto apposta per chi vuole delle funzioni basilari di uno smartphone senza spenderci delle grandi cifre. Il prezzo infatti è intorno ai 159 euro, quindi se cercate un telefono di questo tipo, LG K8 2017 è il telefono che fa per voi. Fate i bravi coinquilini, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale di YouTube, iscrivetevi a Facebook, perché altrimenti, come dice la cara Fiona, sono botte. Ciao!